Il produttore ci aspetta, si aspetta molte cose, già da qualche giorno, ognuno di noi ha un'attenzione, per il minuto, andrà bene, non andrà bene, e cominciamo a ragionare prima magari della pancia, tanto fatto ci ha detto investiamo e non investiamo, ma una volta che si è deciso di investire, cercare di capire se andrà bene, e quindi cos'è? Quale è che crea un programma, un evento, magari anche, e metterci in cuore. Il produttore, se vuoi scendere sotto, i nostri colleghi, come ogni volta io, ci sono i colleghi, vedrete che gli altri, perché quando noi ci mettiamo in cuore, era fantastico, quello che ogni mattina, ogni giorno, ognuno di noi fa. Oggi, la nostra regione, più che immatura, per trasmettere queste emozioni, queste sensazioni, alla cliente, all'entrista, all'appassionato, al buyer, comunque se alcuni che poi apprezzano i vostri prodotti. L'ultimo, il quale ultimo dell'evento flora è proprio questo, dove deve, lo vero, veramente è, deve essere, dovrà essere, il trasmettere queste emozioni. Il bisogno è circocante, nel trasmettere le emozioni, si trasmettano un coinvolgimento, e colui che apprezzerà il nostro primo, sarà, passatevi il termine, fidelizzato verso il mondo. E oggi, comunque, il livello positivo del mondo, è medio, medio alto, comunque, in tutti i nostri, non dobbiamo trasmettere quello che abbiamo dietro. La storia dei nostri nonni, chi si ricorda, la storia dei nostri dati, tutti quelli lo facevano fino a pieno, ma a passare di quello che lo facevano. Questo, io ti prego, 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 sei, al passare di qua tutta questo. Grazie.